Rossini TV torna a rispondere alle segnalazioni di voi telespettatori che riguardano ancora una volta un abbandono ingiustificato di rifiuti, come quello che viene documentato da queste immagini girate in via Volga, strada chiusa del quartiere pesarese Vismara, collocata in prossimità di diversi cantieri edili, dove, secondo alcuni residenti della zona, non è inusuale che furgoni di imprese di costruzione scarichino scarti di lavorazione il mattino presto. Il risultato è un cumulo di sporcizia ingiustificato, tra l'altro all'ingresso di un percorso nel verde e fra i canneti, ora reso impraticabile. Una segnalazione che è stata inoltrata anche agli organi competenti per la pulizia dell'area. Vi ricordiamo come sempre il numero WhatsApp dedicato 370-366-7210 per segnalare a Rossini TV casi di incuria ed è grado da risolvere.